Molto felice di essere qui, ringrazio di cuore chi mi ha preceduto nella presentazione il sindaco Dario Allevi per tutto quello che sta facendo per il teatro Manzoni e per la città dal punto di vista dell'impegno sul teatro e naturalmente Massimiliano Longo lo ringrazio per le parole lusinghiere, per la consueta amicizia e gentilezza ma lo ringrazio anche perché lui e naturalmente il sindaco hanno voluto dopo questa forzata interruzione riaprire il teatro con una stagione completa, cosa che non era così scontato credo che sia un'opportunità per la città, per Monza, il fatto di riprendere non con un piccolo carnet di spettacoli ma avere la possibilità di un'offerta culturale così ampia e così vasta è una stagione a cui abbiamo lavorato forse con più cura e più passione del solito proprio perché dopo la pandemia c'è stata un'attenzione e forse una maggiore consapevolezza anche di tutto quello che volevamo portare in scena in presenza quindi ecco io mi auguro davvero che la possiate apprezzare mi scuso perché sono veramente, ho l'emozione al massimo io già di solito sono un po' ansiosa nel parlare in pubblico mi scuserete se non, insomma per questo carico emozionale molto forte ma mi rendo conto che davvero è la prima volta vi ringrazio per il calore e appunto la gentilezza io appunto all'ingresso vi hanno distribuito credo il nostro libretto della stagione mi fa piacere che sia un libretto completo io magari proverò a raccontarvi cercando di essere sintetica un po' i principali spettacoli che potrete trovare a cui potrete partecipare insieme a noi in questa stagione 2021-2022 e poi vi lascio naturalmente allo spettacolo di stasera